Lui è comodo, Alexander Albon, lui qua al posto di guida, dove potrebbe essere uno che ha devastato il weekend? You were absolutely fastest during this weekend, with this track condition you were fantastic, sometimes you were half a second faster than the other drivers, sometimes three tenths faster than the other drivers, but you were absolutely the fastest. Durante tutto il weekend è stato a tre decimi, mezzo secondo, incredibilmente più veloce di tutti gli altri, what was the trick of this victory? For me, the chassis and the engine together, it was perfect, the engine we do some work from Microsoft and yeah, it's transformed and we couldn't have gone and finished first if it wasn't for Franco, TM and in Shepard, it was perfect. Ok, ok, il pacchetto telaio motore è stato straordinario durante tutto il weekend, dall'ultima gara di Wackersdorf hanno lavorato tanto, hanno sistemato tutto il materiale e questo materiale è completamente trasformato e gli ha permesso di essere velocissimo. Ma è trasformato solo per questa situazione o sempre trasformato? Tu sarai, ovviamente, nella prima rata, nella prossima gara, nel prossimo rata. Do you believe that you can win the championship? Trasformato anche per le prossime gare o solo in questa condizione di pista particolarmente gommata? Grippy, that's correct? Grippy? Fantastico, bravissimo. E tu pensi anche di poter lottare per il campionato? Yeah, I think Zuera will be similar to here, there will be a lot of grip, it's really hot, it will suit the engine, it will suit the chassis and yeah, maybe Nick's a bit too far in the championship now, so I'll be happy to finish, finish second will be really good. Ok, sì, forse adesso Nick è un po' lontano nel campionato, maybe more than 70 points, sì, forse circa più di 70 punti più avanti di lui con un monte punti di 85, quindi dovrebbe succedere veramente di tutto per la vittoria. Ma comunque è una pista molto simile a questa, quella di Zuera, con tanto caldo, con tanto grip e comunque le condizioni ideali a quanto pare per il materiale e poi comunque lui dice sarei comunque felice di poter chiudere il secondo, perché adesso non abbiamo ancora i numeri ma lui è un po' indietro rispetto al campionato. Il vincitore? Il vincitore?